buon pomeriggio anche se direi più buon pomeriggio perché qui sono le 3 e un quarto mister master maestro o semplicemente o semplicemente david l'inch it's it's january 1 2022 and it's it's a saturday here in naples once again 59 fahrenheit around 15 celsius and this means that non è quella giornata veramente 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 fredda con questi giorni in questo periodo almeno per me sempre la percezione più di tanto non sento freddo invito sempre a vedere il video mio pensiero sul freddo di qualche giorno fa per capire perché lo avverto il freddo più di tanto oggi stavo pensando di fare questo esperimento il nuovo anno di separare i video di pensieri dal report vediamo un po come va quindi oggi questo video solo report meteo e saluti finali e poi pensiero separato diciamo dal video vediamo un po come va se dovesse andare bene continuo così questo perché appunto poi report viene troppo lungo diciamo un po nuovo anno nuova modalità di fare video vediamo un po anyway as you just see from the window today non poteva iniziare che meglio di così l'anno in negativo ovviamente sono ironico we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine ma visto nuvole che coprono tutto il cielo è dico la frase cult ovviamente le cose posso sempre cambiare un momento all'altro battasolo e sui will see la video un po comunque dura è tutto coperto say that is so from the mythical window with the car and curtain beautiful certo non proprio bellissime sublime perché non c'è il sole ovviamente quel bellissimo sole azzurro però comunque è bella con questa inquadratura che crea sempre una luce diciamo particolare and it's green roller shooter ovviamente è inutile dirlo in questi casi poi è vero non ha di dicembre in questi casi non abbiamo those beautiful blue skies and golden sunshine ma abbiamo oh Those beautiful giant Magical and golden golden and white bolts and objects from the christmas pine tree che quindi non sono ovviamente grandi come loro ma possono comunque sostituire degnamente those beautiful blue skies and golden sunshine e un saluto anche da the tether mythical window with the white curtain the gray roller shooter and finally from my mythical keyboard yamadi gx 640 ipg 625 ever a great day in all the people who follow the channel in the reports spero che abbiate passato un giorno finale dell'anno bellissimo insomma molto bello spero e così anche il nuovo giorno il nuovo inizio quindi il nuovo inizio dell'anno altrettanto bene stiate passando o lo passerete a seconda di dove vi trovate so again have a great day in all these people and everyone too